Per 25 anni circa, io ho studiato all'interno del fenomeno ufologico, un particolare aspetto del fenomeno ufologico, cioè l'addaction, il fenomeno di rapimento alieno, e l'abbiamo studiato tra le altre tecniche con l'ipnosi regressiva. Quindi abbiamo messo in ipnosi circa 3.500 persone con gruppi di ipnologi diversi e abbiamo confrontato i dati. Quello che veniva fuori è che il soggetto viene prelevato da questi esseri che vengono da un altro mondo, che sono di diversa natura, che collaborano o buttotto collo insieme perché ognuno vorrebbe invece tutta la ciliegina della torta, che ora diremo che cos'è, prendono i soggetti, li portano in una macchina volante e tolgono dal loro contenitore una cosa, dal loro corpo, una cosa, che è una frequenza cosciente, è una cosa vivente, è una parte di noi che noi abbiamo chiamato, perché non sapevamo come chiamarla, parte animica. Questa parte animica, che è la rappresentazione sostanzialmente del femminile dentro di noi, diceva in ipnosi, 3.500 ipnosi, hanno ripetuto 3.500 volte la stessa storia, che la parte animica era la vita, era la luce nella luce ed era qui per fare l'esperienza, l'esperienza della vita, l'esperienza della morte, proprio per capire che la morte non esiste. E cosa volevano questi esseri che ti vengono a prendere, diceva? Loro vogliono me perché io non muoio e loro non vogliono morire. Si scopriva così che dentro, dietro il mito del ritratto di Dorian Gray c'era la storia del diavolo, il quale ti ruba l'anima e sostanzialmente il diavolo che ti ruba l'anima per i nostri antichi nonni, altro non era che l'alieno moderno di oggi, che in realtà non era un demone, ma era qualcuno che utilizzava una parte che noi avevamo, la parte animica, e che lui non aveva, perché lui aveva paura di morire.